Nuove cattive nuove, oggi è l'otto marzo e ho una nuova bellissima cover per il telefono, buona nuova. Ho inviato lo showreel, cioè ho contattato un'agenzia di Milano che mi era stata data la Tam Tam Casting e mi hanno subito fissato un appuntamento conoscitivo, buona nuova. Ho un mal di schiena terribile che forse è dovuto al fatto che mi sono esercitato abbastanza stamattina, tante tante pressioni. Cattive nuove, sono andato a teatro e Francesca non c'era, è stata pochissima, poi se ne è andata via subito. Cattive nuove, con Luciano mi ha fatto culo perché non so l'addizione, tanto, tanto, ho sbagliato tutto. Cattive nuove, buone nuove e cattive nuove.